Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite come promesso con un nuovo episodio delle Gigi News E oggi ragazzi è tornato a parlare l'uomo misterioso dei leak misteriosi Perché se ne è uscito con altre informazioni nuovamente fuori di testa Prima poi di andare a vedere le nuove informazioni andrò anche a fare una sorta di riassunto per farvi capire un attimino quanta roba ha già licato così dal nulla Giusto per farvi capire quanto effettivamente possa essere una fonte decisamente attendibile Io prima di iniziare il video però come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzi è davvero fondamentale Quindi controllate sempre che in basso a destra ci sia scritto supporto a un creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie davvero di cuore a chi lo farà, è davvero importantissimo per supportarmi Lasciate un bel mi piace ragazzi, mi raccomando per supportare le GG News direi almeno 5000 like Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto Quindi mi raccomando raga, controllate di essere iscritti se non lo siete, iscrivetevi E adesso vediamo un po' cosa riusciamo a combinare Tra l'altro piccola informazione di servizio Oggi giochiamo con mosse e tastiera Ma comunque avrei voluto giocare con mosse e tastiera Ma vi avverto che ci sono dei problemi con i pad su PC Quindi per tutti coloro che giovano col pad su PC, come per esempio io Se state avendo qualsiasi tipo di problema, tranquilli perché è proprio un problema di Fortnite Avete presente che in questi giorni ogni tanto avevo quel bug che mi segnava i tasti del pad dell'Xbox Quando in realtà il mio ha i tasti del pad della PlayStation Bene, quello era un bug effettivamente del gioco Lo hanno risolto quest'oggi, cioè ieri perché io sto registrando Mercoledì 25 agosto, voi lo vedrete questo video se tutto va bene, giovedì 26 Hanno fissato ieri appunto il 25 Ma tipo adesso a me il PC non mi sta rilevando O meglio non il PC, il PC me lo rileva il pad Fortnite non mi rivela, non mi rileva il pad Cioè praticamente io faccio le cose ma non vanno i tasti Cioè proprio come se non fosse collegato Mentre già l'ho provata anche in altre applicazioni, in altre cose Il pad va, quindi è semplicemente Fortnite E boh, niente, così, giusto per dirvelo Erano informazioni di servizio abbastanza importanti Altra piccola ma importantissima informazione di servizio È per quanto riguarda la skin di Superman Oscuro Perché quest'oggi intorno alle 15-16 dovrebbero uscire le ultime sfide epiche necessarie Per poter sbloccare appunto lo stile oscuro di Superman Io quasi sicuramente le starò completando in live su Twitch, sul sito Viola Vi aspetto, mi raccomando, regà, trovate il link in descrizione per venirmi a seguire anche di là Perché ormai le streaming le stiamo facendo unicamente di là Quindi mi raccomando, ragazzuoli, per venirmi a seguire in live c'è il link in descrizione Vi aspetto, anzi, vi aspetto Allora, detto questo, regà, torniamo un attimino a parlare di questo leaker misterioso Che pare abbia queste informazioni Ancora nessuno ha capito perfettamente come fa, da dove le piglia Ma sti colpi del pampa? Ok, erano rimasti lì, va bene Vi ricordo che ci aveva già preso con l'evento di Ariana Grande Ovviamente anche con la skin, ma quello era abbastanza valese È già da un sacco di tempo che sta parlando del cubo Kevin, per esempio E tra l'altro proprio quest'oggi torneremo a parlare del cubo, ragazzi Abbiamo altre notizie abbastanza interessanti Dopo quelle che già vi ho detto nel video di ieri Perché anche ieri, ragazzi, è uscita una GG News Dove abbiamo parlato di tutte altre notizie Mi raccomando, dopo questo video, se ve lo foste perso Andatevelo a recuperare perché pure nel video di ieri abbiamo detto cose molto interessanti, eh? Quindi io fossi in voi, non mi perderei neanche il video di ieri Uscito ieri, se ancora non ve lo foste guardato Insomma, ragazzi, questo qua ci ha già preso con tutta una serie di informazioni Una cosa davvero pazzesca, senza senso E sembra che abbia tirato fuori altre notizie Alcune pazzesche senza senso Altre, oserei dire, scontate Quindi qualcosa di scontato lo abbiamo Appunto, tornando alle notizie che abbiamo adesso di nuovo Ne abbiamo, appunto, un bel po' Come vi stavo dicendo, alcune un po' scontate Altre davvero molto interessanti E di cui, appunto, oggi andremo a parlare Allora, regà, di questo già ne abbiamo parlato Di Mike Lovray, che è un personaggio interpretato da Will Smith Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa Sembra che debba uscire a questa collaborazione E, secondo questo Ligar misterioso La skin dovrebbe già uscire anche il 29 agosto Ora, io, sinceramente, mi aspetto un torneo Per una skin del genere Boh, sì, potrebbe esserci un torneo, come no Ormai hanno soltanto un paio di giorni Per fare il torneo per cercare di sbloccarla gratuitamente Quindi non so se effettivamente poi lo faranno Però, ecco, secondo lui, il 29 agosto Potrebbe già uscire negli shop Regà, se ci ha preso pure con sta cosa Io penso che d'ora in poi lo possiamo prendere Anche proprio come effettivamente una fonte attendibile Sì, adesso ci ha sempre preso con tutto Ma è sempre stato anche abbastanza Come posso dire, non troppo preciso Cioè, aveva detto del concerto Sì, aveva detto della skin di Ariana Grande Ok Anche altre cose ci ha sempre preso Però è sempre stato abbastanza generale Nel raccontare le cose Invece questa volta è andato anche abbastanza nello specifico Cioè, se ci va a prendere anche con delle date In maniera così precisa Regà, questo qui c'ha qualche segreto O comunque di sicuro c'ha qualche contatto alla Epic Perché se no, non si spiega Quindi c'è qualcuno, la Epic, che sta facendo lo snitch Perché se no, qui veramente la situazione non si spiega Poi pare che ci sarà una nuova collaborazione A tema Marvel Questa volta con Shang-Chi Io, in realtà, ragazzi, come film Non lo conoscevo, vi dico la verità Mi sono andato prima di informare un attimino Per vedere appunto se fosse Marvel E sì, ragazzi, è una collaborazione Marvel Praticamente Comunque dovrebbe avvenire il tutto Tra il 2 e il 3 settembre Quindi tutte collaborazioni una dietro l'altra Regà, sta stagione è stata veramente pienissima Di collaborazioni Una cosa incredibile Addirittura fino all'ultimo Anche nelle ultime settimane Quando dovrebbero concentrarsi un attimino A creare hype per l'evento Continuano a fare collaborazioni Per una collaborazione già un po' più consistente Come questa, stile Marvel Possiamo pensare che facciano poi dei tornei O comunque appunto un torneo Per ogni regione Per cercare di sbloccarla gratuitamente Staremo a vedere Comunque, altra collaborazione con la Marvel E ovviamente il tutto conferma Il fatto che per altri Almeno per un altro Anzi ormai un anno e mezzo Dovrebbero continuare a collaborare Epic con la Marvel Nonostante Epic Stia ormai maggiormente collaborando Con la DC In particolar modo Dopo anche aver visto L'uscita dei fumetti Dopo aver letto i fumetti E dopo che ne hanno anche annunciato altri Perché io vi ricordo Che ne hanno annunciati altri Che usciranno verso la fine dell'anno Verso ottobre Se non sbaglio Settembre, ottobre o più l'anno Non lo so Comunque dovrebbero Entro la fine dell'anno Uscirne altri Che dovrebbero essere proprio Il continuo di quelli Che abbiamo già letto Poi arriverà una skin Chiamata Prima Ombra E arriverà nella crew Di Fortnite E da come ha scritto lui Sembra che ci sarà Più di una skin Quindi qua bisogna un attimino Capire che cosa intendono Per più di una skin O comunque che cosa intende lui Per più di una skin Comunque ci ha spoilerato Giusto il nome Non so per adesso Quanto possa essere importante Aver saputo questo nome Però teniamocelo a mente Sempre per considerarlo Fonte attendibile Oppure no Più che altro regà Allora per adesso La possiamo comunque sia Prendere come fonte attendibile Perché per adesso Prima di te Ci ha preso su tutto Vorrei cercare di capire Se veramente ci piglia su tutto Ed è veramente così preciso Oppure ogni tanto sbaglia Così giusto per capire meglio E cercare di riportarvi Le notizie In maniera sempre più Limpida possibile Perché io appunto Ogni volta vi dico Quando parliamo di questo qui Sappiate che non parliamo di leak O di informazioni certe È lui che ci sta Spoilerando queste cose Perché evidentemente Le sa per qualche strano motivo Però potrebbero tranquillamente Anche non essere vere Oppure potrebbero essere vere Ma magari Epic Games Cambia idea all'ultimo Quante volte è successo Che Epic Games Abbia cambiato idea all'ultimo Sacco di volte Quindi regà Potrebbe anche accadere Una cosa del genere Però per adesso Vediamo quello che succede Allora regà Ho finito di registrare il video E appena ho finito di registrare il video È uscita questa news in gioco Quindi ufficiale Regà c'è sto dentro Fortnite Ok non è un leak Una teoria O chissà che È ufficiale Crew di Fortnite Tre agenti Un tocco d'oro Le migliori regole di Mida Si uniscono alla crew di Fortnite Mantieni l'abbonamento Da settembre a novembre Otterrai stili bonus Per tutti e tre I costumi E questo regà È palesemente un riferimento A quello che stava dicendo Questo leaker misterioso Le tre ombre di Mida Sono sicuramente Quella prima ombra Di cui sta parlando Questo leaker misterioso Cioè regà Neanche ho finito di fare il video E già è stata confermata Una cosa che ha detto Sto tipo qui Cioè Senza senso Pazzesco ragazzi Allucinante Ma poi iniziano i leak Sulla stagione 8 Quindi sulla prossima stagione Che erano quelli Che ci interessavano Effettivamente Allora Dovrebbe iniziare Un possibile Conto alla rovescia Dal 3 al 4 settembre Per questo evento finale Che dovrebbe chiamarsi Skyfire Cioè praticamente È un nome D'impatto Cielo infuocato Comunque Un cielo di fuoco E se ci pensate bene Potrebbe starci Come nome Con il fatto che Che ha provato a spararmi Quello lì che sta Ma che sta provando A sparare a me No No penso di no Però Lì sopra Stava provando a sparare Vabbè Non ci credo C'abbiamo uno qui Aspettate Skyfire deve aspettare Un attimino Skyfire deve aspettare Un attimino Raga E questo quanto Ha buildato Già Oh my god Dove è andato Mi segna i passi Qui ma Non lo vedo Ma è andato sotto Potrebbe essere Andato sotto Secondo voi Penso proprio di sì Ma fate Ma fate Editarmi Ma fate Editarmi Regà Stavo Overbuildando Appositamente Mi vede Secondo voi Ah l'ha preso lui Sto muro Secondo me mi vedeva Ma mi ha tolto anche un sacco Mi ha tolto anche un sacco Regà Cioè per Per avermi preso abbastanza di striscio Perché Non è che mi avesse preso proprio In maniera diretta Ho tolto 57 E non aveva neanche chissà quale pompa Che pompa aveva regà Non l'ho neanche notato Ma È quello verde Maledizione regà La siamo mista brutta Comunque dicevamo Questo evento Che quindi quello di questa stagione Si dovrebbe chiamare Skyfire Riprenderebbe anche alla perfezione Insomma tutto il discorso Della nave madre Che dovrebbe appunto esplodere Esplodendo nei cieli Effettivamente per chi è sull'isola Potrebbe ricordare un po' Un cielo infuocato No Cioè voi immaginatevi No non questa Non questa la nave madre Che ha fatto troppo ridere Stavo per dire nave madre Mi sono alzato Ho visto questo Dico Dio che è successo È successo che mi sto strozzando da solo Allora Dicevo Immaginatevi no Stare su un'isola Vabbè Abbastanza grande Ma non gigantesca E immaginatevi una Una navicella del genere Che esplode E cade sull'isola Beh direi che ricorda abbastanza Un cielo infuocato Quindi se vogliamo Riprende Abbastanza Tutte le notizie Che abbiamo fino ad ora Cioè potrebbe effettivamente starci Cioè quindi se questo tipo È un tipo che fa le teorie Effettivamente È bravo a farle Anche se però Secondo me ragazzi Ha preso talmente tanto Su alcune cose Che solo di teorie Non può accampare Cioè con queste notizie Non può accampare Solo di teorie Ha evidentemente Qualche contatto O qualche informatore All'interno Cioè non lo so Regà Però diciamo che Alla fine della fiera Quando poi noi parliamo Delle sue notizie Sono tutte notizie Che oltre ad essere Abbastanza sconvolgenti Poi alla fine della fiera Se ci pensate bene Possono starci Cioè è un nome Che si può tranquillamente Come posso dire Affiancare All'evento Che fino adesso Noi conosciamo E che ci potrebbe aver In parte spoilerato La dottoressa Sloan No? Mentre poi Se vi ricordate bene Ne abbiamo parlato Anche negli scorsi video Di un punto di interesse Di un nuovo punto di interesse Che dovrebbe chiamarsi Sideways Aspettate Ok E questo Sideways Dovrebbe essere Ora non so Magari mi sto sbagliando Mi correggerete voi Sotto nei commenti Dovrebbe essere Quel punto di interesse Che lui aveva affiancato Al possibile punto di interesse In collaborazione con La collaborazione con Stranger Things Ok quindi dovrebbe essere Quel punto di interesse Abbastanza particolare Tra l'altro Se avete visto I video precedenti Dove parlavo sempre Delle informazioni Di questo tipo Misterioso Ci aveva spoilerato Anche mostri a cavallo Vabbè cose strane Staremo a vedere Comunque dovrebbe essere Confermato Sto punto di interesse Però come se fosse In una seconda dimensione Ora Desta seconda dimensione Dobbiamo un attimino Ancora capire De che si tratta Perché magari per adesso È un'informazione Buttata lì tanto a caso Però sta seconda dimensione Potrebbe tornare Effettivamente Nei nostri discorsi In futuro Per capire Di che si tratta Soprattutto E poi raga L'ultima informazione Tra quelle che ci ha Di cui ci ha parlato Lui In questi In questo nuovo Comunicato Chiamiamolo così Anche se vabbè Non è un vero e proprio Comunicato Però vabbè Mi piace chiamarlo così È che Sembra essere confermato Al mille per mille Il cubo Kevin Raga Insomma Il cubo Kevin Ma già ne abbiamo parlato Anche nel video di ieri Pare essere Proprio Confermatissimo Cioè Tutte Tutte le notizie Tutte le informazioni Che abbiamo a riguardo Ci portano al cubo E comunque sia Pare che effettivamente In qualche modo Deba tornare Nell'evento finale Di questa stagione Nella prossima stagione Staremo a vedere Però comunque In un modo o nell'altro Nella storia Di fortnite Nella trama di fortnite Tornerà al cubo Raga È palese Ma era palese Anche proprio Già da tempo Perché Epic Games In qualche modo Ha sempre fatto Riferimento al cubo Raga C'è sempre stato Qualche riferimento al cubo Durante tutte le stagioni Ragazzi Cioè C'è sempre stato qualcosa Quindi Mi avrebbe sorpreso Il contrario Ragazzi Non vederlo più Questo Ci ha visto Gigi Total Headshot È tornato Alla grande Let's go Ok Ok Perfetto Alla grande Alla grande Quindi Dicevamo Mi avrebbe sorpreso Tantissimo Un non ritorno Del cubo Kevin Ma comunque Mi ricordo Di utilizzare Il mio codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccando Il negozio oggetto Di fortnite Per supportarlo Iscrivetevi al canale Se ancora Non lo aveste fatto Lasciando a me il mi piace Direi di raggiungere Almeno i 5000 like Per supportare Il GG News Fatemi sapere Sotto nei commenti Cosa ne pensai Tutto quello Di cui abbiamo parlato Quest'oggi Insomma Abbiamo toccato Davvero Tanti argomenti Abbiamo parlato Di nuove collaborazioni Di conseguenza Nuove skin L'evento finale Il cubo Punti di interesse Della prossima stagione Conto alla rovescia Insomma Di roba ne abbiamo trattata Vedremo un po' Quello che si concretizzerà Io di sicuro Starò particolarmente Attento Alle informazioni Che ci ha dato Questo qui Per capire effettivamente Quanto possa essere Attendibile Per me è tutto Ci troviamo Dopo In live Sul sito Viola Vi ricordo Il link in descrizione Per il mio Seguire Per completare Appunto Le missioni Superman oscuro E poi domani Con un prossimo Qui sul mio canale Ciao ragazzi